Grazie, è bello, è un piacere essere qua, davvero. Cosa ti aspetti da questa serata, soprattutto dopo tanto tempo che non vi esibite in pubblico all'Arena? Guarda, devo dire, è una bellissima emozione perché io l'ultima apparizione che ho fatto su un signor palcoscenico è del 2020, quello di Sanremo, e quindi tornare dopo un anno e mezzo circa all'Arena di Verona è una meraviglia su un palco altrettanto importante quale Sanremo, quindi spero che sia proprio l'inizio di tanti barchi belli.